Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura i dati allarmanti per quanto riguarda la balneazione nella nostra regione sono dati diffusi dal Movimento Abruzzese per l'Acqua. Sono numerosi di vieti già in essere ed altri ci saranno in arrivo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e dunque si preannuncia un'altra estate calda sotto questo punto di vista. Andiamo ad ascoltare insieme il servizio di Paolo Renzetti. De Santis, sono usciti i dati riguardanti la balneazione nella nostra regione, dati piuttosto allarmanti? I nodi vengono al pettine. Noi sono anni che denunciavamo una situazione fuori controllo e avevamo detto anche qualche anno fa, da qualche anno, che alcuni tratti che erano e sono molto inquinati dopo cinque anni di classificazione della classe peggiore e scarsa sarebbero stati chiusi alla balneazione. Molti hanno fatto finta di nulla, alcuni hanno guardato dall'altra parte. Il risultato è che quest'anno otto tratti costieri saranno chiusi permanentemente per tutto il 2016 alla balneazione. Quali sono i tratti di spiaggia chiusi? Ce n'è uno a Roseto, quattro a Ortona, due a San Vito Chietino e uno a Torino di Sangro. Chi vuole informarsi può andare sul sito della regione mettendo su Google Balneazione Regione Abruzzo oppure andare sul portale Acque del Ministero della Salute in cui poi vengono aggiornati i dati costantemente. Poi ce ne sono altri dieci di tratti che invece partiranno chiusi durante la stagione, cioè dal primo maggio e potranno essere riaperti solo se ci sono due analisi positive più l'eliminazione delle cause della contaminazione. Quindi abbiamo una situazione in cui il 15% dei tratti costieri abruzzesi sostanzialmente partirà col divieto di balneazione e questo è un dato gravissimo per l'economia abruzzese e per il nostro ambiente. Adesso parliamo di Trivelle. L'indagine che riguarda il centro oli di Vigiano in Basilicate che ha portato alle dimissioni del Ministro Federica Guidi riapre il dibattito sulle Trivelle e sul prossimo referendum del 17 aprile. Questa mattina il Comitato per il Sine, la nostra regione, ha tenuto una conferenza stampa puntando il dito proprio sull'inchiesta e dicendo che è l'ennesima prova del fatto che la coltivazione di idrocarburi in Italia è spinta dai soliti noti. Vediamo il servizio. È la stretta attualità della cronaca giudiziaria a riportare in primo piano il tema delle Trivelle del referendum del prossimo 17 di aprile. Le dimissioni del Ministro per le attività produttive Federica Guidi a seguito dello scandalo degli arresti e delle intercettazioni relative all'inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti per il centro Olieni Lucano di Vigiano e per la realizzazione dell'impianto totale di Tempa Rossa che ha coinvolto tra gli altri rimprenditore e compagno del Ministro Gianluca Gemelli danno l'opportunità al Comitato Referendario per il Sì di tornare a chiedere la partecipazione al referendum abrogativo indetto, lo ricordiamo, per decidere se cancellare o meno la norma che consente alle società petrolifere di cercare ed estrarre gas e petrolio entro le 12 miglie marine dalle coste italiane senza limiti di tempo. Per il Comitato che si batte per il no al referendum l'abrogazione della norma attuale sarebbe una vera e propria mazzata al settore petrolio in Italia cancellando posti di lavoro e non consentendo investimenti e creazione di nuovi posti ma per il Comitato del Sì gli argomenti della legge di stabilità e dei posti di lavoro non sono sufficienti a rendere vano il referendum voluto, ricordano, anche dalla regione Abruzzo. Ma che cosa emerge lo diranno i magistrati però possiamo già dire quello che il procuratore antimafia ha detto qui non si parla di associazione mafiosa non ci sono mafiosi, non ci sono dranchetosi, non ci sono camorristi c'è un panorama in cui le aziende industriali in prima persona gestiscono smaltimento illegale dei rifiuti questa mi sembra un'evoluzione grave delle questioni non ci sono più intermediari ma si fa in prima persona questo lo fanno aziende grandi che si ritengono responsabili e quindi provocando gravi inquinamenti su cui integrerà la magistratura tanto più possiamo pensare che altre piccole e medie aziende che operano nei mari italiani possano operare senza le garanzie per l'ambiente Altro argomento caldo, quello delle banche i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno presentato una interrogazione sulla vicenda della Carichietti sul banco degli imputati, i commissari della Banca d'Italia Carichietti forse poteva essere salvata così dice il Movimento 5 Stelle avete presentato anche un'interrogazione parlamentare e avete posto l'attenzione in particolare sulla Banca d'Italia Sì, vogliamo capire cosa hanno fatto e come hanno operato i commissari della Banca d'Italia che in un anno, dal fine 2014 al fine 2015 hanno di fatto azzerato un patrimonio che l'ultimo bilancio disponibile era di 200 milioni di euro e hanno di fatto azzerato delle garanzie che ammontavano a 700 milioni di euro su crediti deteriorati di 320 milioni quindi più del doppio perché tutto questo patrimonio è stato azzerato perché tutto questo è stato annullato e perché ovviamente gli obbligazionisti ci hanno rimesso perché ricordiamoci sono ancora in attesa di un provvedimento che li tuteli e quantomeno gli rimborsi delle obbligazioni e dei soldi che hanno perso si sta facendo fallire l'ultima banca territoriale abruzzese un sistema che sta scomparendo all'estero invece ricordiamolo che in paesi come la Germania le banche territoriali sono quelle più tutelate sono un pilasso del sistema economico tedesco come quello tedesco e vengono aiutate allo stesso Stato e lì hanno situazioni ben peggiori perché addirittura le banche territoriali tedesche hanno sofferenze per 600 miliardi di euro quindi una montagna rispetto alla situazione delle banche italiane invece in Italia si sta distruggendo un sistema finanziario che era sicuramente in situazione migliore rispetto ad altri sistemi europei I sindacati di polizia hanno incontrato questa mattina il questore di Pescara sulla vicenda La City e su quello che hanno definito l'attacco del governatore della regione Abruzzo D'Alfonso alla squadra mobile di Pescara il questore riferisce una nota dei sindacati nel corso dell'incontro ha detto che sia la locale procura della Repubblica che la distrettuale dell'Aquila non hanno mai avuto dubbi sulla correttezza dell'operato della squadra mobile di Pescara e mai hanno censurato l'attività di Giancarlo Pavone anzi la considerazione su quest'ultimo delle procure abruzzese è tale che nei giorni addietro la distrettuale dell'Aquila ha fatto richiesta nominativa dell'investigatore per coinvolgerlo in un progetto pilota denominato Crasi inoltre il questore ha rassicurato i sindacati che non è sua intenzione attivare alcun procedimento amministrativo volto al trasferimento di sede di servizio di ufficio di Pavone Adesso la cronaca altri due arresti da parte della Polizia di Pescara che chiude così un'operazione anti-prostituzione iniziata lo scorso ottobre Operazione della squadra mobile di Pescara in collaborazione con la Polizia della Romania e dell'Interpol contro un racket della prostituzione nella cittadina adriatica con un giro di affari di almeno 50.000 euro al mese dopo sei mesi di ricerche sono stati rintracciati e arrestati due romeni marito e moglie colpiti da mandato di arresto europeo e latitanti dopo un'operazione contro lo sfruttamento della prostituzione condotta nell'ottobre scorso sempre nella città abruzzese i due arrestati sono Angel Dimitru Cornell 28 anni e Angel Bianca 22 l'indagine è sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pescara e del PM Andrea Papalia gli altri due indagati sono destinatari di analoga misura restrittiva Adriana Pasca romena di 22 anni arrestata a Pescara nell'ottobre scorso e ora con obbligo di dimora e Michele Colalè pescarese di 39 anni ancora latitante Colalè era stato già arrestato per reati analoghi in un'operazione della mobile nel 2011 ai quattro è contestata associazione per delinquere finalizzata all'estorsione e al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione secondo gli inquirenti Angel Dimitru Cornell e Michele Colalè erano elementi dell'associazione e si occupavano di reclutare all'estero giovani romene mentre le due donne avevano ruoli esecutivi e di raccordo le indagini complesse avviate nell'estate del 2014 hanno portato allo scoperto un fenomeno criminale per il controllo e la spartizione del territorio destinato all'esercizio della prostituzione nella zona sud di Pescara e all'interno della Pineta D'Annunziana era basato sul pagamento di una sorta di tassa di occupazione da parte delle prostitute che venivano minacciate e picchiate in caso di rifiuto riscontrate e documentate molte rimesse di denaro in Romania attraverso il cicculto del money transfer altre sei persone quattro romeni e due italiani sono state indagate per estorsione il corpo forestale dello Stato ha posto sotto sequestro preventivo su disposizione del GIP del Tribunale di Chieti un'area di circa due ettari in località Passo Palogno a Rapino in provincia di Chieti dove era in corso un'abusiva attività di disboscamento ed escavazione con prelievo di materiale roccioso e terreno la ditta proprietaria autorizzata con provvedimento della regione Abruzzo al solo recupero morfologico e definitivo dell'area di cava stava illecitamente estraendo secondo le indagini materiale lapide o in zona non ricadente in quella autorizzata altra operazione da parte della guardia costiera che ha sequestrato tonni rossi pescati di frodo trovati a bordo di un automezzo sul lungo fiume di Pescara si tratta di cinque esemplari della specie tunnus tinnus per un peso complessivo di circa 200 kg il prodotto ittico era sprovvisto di documentazione che ne attestasse la legittima provenienza alla persona che ne è stata trovata in possesso è stata applicata a una sanzione pecuniaria di 4.000 euro il pescato giudicato idoneo al consumo alimentare dal medico veterinario della ASL di Pescara è stato devoluto in beneficenza adesso la pagina politica Bagarre in consiglio comunale a Pescara sulla tassa di soggiorno il consigliere del nuovo centrodestra Guerino Testa ha chiesto le dimissioni dell'assessore Cuzzi che parla di demagogia prosegue la Bagarre in consiglio comunale per quanto concerne la tassa di soggiorno lei consigliere Testa è arrivato a chiedere proprio questa mattina le dimissioni dell'assessore Cuzzi perché? è inaccettabile presentare una delibera del genere senza aver redatto preventivamente un piano marketing dettagliato ossia la città di Pescara non sa come verranno utilizzati questi soldi una volta introitati avete presentato tra l'altro centinaia di emendamenti come opposizione centinaia di emendamenti proprio per far capire che non sono emendamenti istruzionistici ma sono emendamenti per far capire all'assessore che questo non è il verso in cui bisogna andare Assessore Cuzzi Bagar questa mattina in consiglio comunale all'ordine del giorno questa tassa di soggiorno le opposizioni in particolare il consigliere dell'NCD Guerrino Testa ha chiesto le sue dimissioni ma su questo aspetto c'è molta demagogia la tassa di soggiorno è intesa da questa amministrazione come un contributo di scopo per rilanciare la vocazione attrattiva turistica della città per fare queste cose ci vogliono delle risorse noi abbiamo avviato da un oltre un anno un percorso di condivisione con tutte le associazioni di categoria ecco la DMC del Piacere siamo l'unica città in Italia che ha collegato a questo contributo di scopo che pagheranno i turisti e non i pescaresi un piano marketing quindi una visione industriale del turismo passando dal faedate degli ultimi vent'anni a una programmazione scientifica questo servirà a Pescara per rilanciare le proprie potenzialità e soprattutto la somma di questi contributi servirà a far portare tante risorse al territorio e quindi a riattivare un'economia pescarese domani si celebra la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo e oggi l'assessore regionale Donato Di Matteo ha presentato una proposta di legge su come affrontare concretamente questa forma di disabilità che colpisce anche in Abruzzo sempre più persone Sessore Di Matteo quella di domani sarà una giornata importante la giornata della consapevolezza sull'autismo e oggi presentate un progetto di legge regionale proprio sull'autismo ho avviato un percorso di concertazione che oggi si va a concretizzare in una bozza di proposta che serve a modificare alcuni aspetti e a dare un ruolo strategico importante a quella che è l'attività dell'autismo che non può essere un argomento considerato un argomento all'interno delle malattie psichiatiche per cui noi andremo avanti su 3-4 proposte fondamentali la prima la diagnosi precoce che deve essere sviluppata nei territori di appartenenza l'altro aspetto è che c'è un percorso per cui l'autistico dopo i 18 anni esce dallo schema di attenzione delle istituzioni e rimangono in un mondo diciamo coperto buio bisogna lavorare per cui queste persone quando perderanno i familiari i genitori avranno anche un modo per vivere in maniera diciamo adeguata a quella che è una civiltà moderna come quello che vogliamo sviluppare Tonella De Angelis parliamo di questo concerto che ci sarà il 9 aprile un concerto che servirà per raccogliere fondi per i genitori di bambini autistici il concerto è impernato su un grande artista internazionale Danilo Rea che ha abbracciato con grande sensibilità la cosa eseguiremo musiche sue arrangiate per orchestra fiati e trio jazz e in apertura al concerto ci sarà un gruppo di ragazzi dai 5 ai 13 anni violoncellieri che sono in effetti sotto i riflettori a livello nazionale di grandi musicisti per la didattica innovativa del preparatore che è Gianluigi Fiordaliso il segretario nazionale della federazione della stampa italiana lo russo oggi a Pescara ha incontrato i giornalisti abruzzesi per affrontare le problematiche del settore dell'informazione anche alla luce della nuova normativa e della nuova legge sulla editoria segretario della federazione nazionale della stampa lo russo oggi a Pescara per parlare anche dei problemi che affliggono la stampa italiana e anche quella abruzzese un momento molto difficile anche nella nostra regione ci sono tante vertenze in atto il settore dell'editoria è ancora immerso in una crisi di natura strutturale dalla quale secondo noi si può venire fuori da una parte ridisegnando quello che è l'impianto normativo che deve regolare il sistema nel suo complesso dall'altro però intavolando un confronto con gli editori quindi con le aziende editoriali incentrato sulla importanza e sull'assoluta centralità della informazione di qualità perché senza qualità l'informazione come dire non ha più ragione d'essere l'informazione professionale tanti giornalisti molti sottopagati malpagati è questa una piaga da debellare diciamo che c'è innanzitutto un problema di rivedere le regole di accesso alla professione è chiaro che qui non è in discussione l'abilitazione all'esercizio della professione quanto appunto la distinzione tra chi è abilitato all'esercizio della professione e chi la professione la esercita realmente la esercita effettivamente la legge sull'editoria come sapete ha fatto il primo passaggio è stata approvata dalla Camera e adesso è arrivata al Senato dove deve essere calendarizzata sappiamo soltanto che è stata assegnata la prima commissione quindi poi ci saranno tutti i passaggi previsti dai regolamenti anche in Senato si avvicina l'anniversario del terremoto dell'Aquila e ovviamente si preparano numerose iniziative andiamola a scoprire nel servizio di Gianmarco Menga Insieme di Corsa per l'Aquila è lo slogan dell'iniziativa promossa quest'anno per la prima volta dalla Guardia di Finanza dell'Aquila nell'ambito del settimo anniversario del terremoto del 2009 con il patrocinio della regione Abruzzo della provincia e del comune dell'Aquila le fiamme gialle di Coppito hanno voluto promuovere una corsa su strada non competitiva nella prospettiva di collaborare con la cittadinanza la corsa si svilupperà sulla distanza complessiva di circa 10 km ad andatura regolare e partirà dal campo sportivo della scuola con l'adesione di miglia allievi in formazione e parte del personale in servizio nella Guardia di Finanza proseguirà lungo un percorso prestabilito e vincolante per tutti i corridori fino all'area mercatale di Piazza Darmi per poi congiungersi con la cittadinanza aquilana e terminare insieme dopo un'ulteriore sosta a Piazza Duomo davanti all'assagrato della Basilica di San Bernardino il generale della Guardia di Finanza Michele Carbone spiega il senso dell'iniziativa l'iniziativa è un'iniziativa di solidarietà abbiamo pensato nel settimo anniversario dell'evento sismico a seguito di quello che è successo nelle ore immediatamente dopo il terremoto la popolazione aquilana si è riversata nel viale Fiamme Gialle e la Guardia di Finanza la scuola ha aperto i cancelli alla popolazione offrendo latte caldo ai bambini coperte perché quella notte faceva anche freddo a distanza di sette anni abbiamo pensato che sono i nostri allievi ad uscire dalla scuola e ad andare incontro alla popolazione aquilana attraverso questa corsa non competitiva su strada visibilmente soddisfatta per questa importante novità nel settimo anniversario della sisma l'assessore alla cultura della comune dell'Aquila Betti Leone l'iniziativa ci è stata proposta quest'anno dalla Guardia di Finanza è un'iniziativa della Guardia di Finanza che noi abbiamo volentieri accolto perché come sapete la scuola della Guardia di Finanza è diventato quasi il simbolo del post terremoto è stata la nostra casa nei giorni più critici dopo il terremoto quindi che loro abbiano voluto quest'anno dare un segno alla città e chiedere alla città di marciare con loro il 6 aprile per ricordare questa vicinanza ci è sembrato un fatto molto positivo e quindi volentieri abbiamo accolto la loro proposta da oggi da oggi primo aprile a Roseto è stato potenziato lo sportello del distretto sanitario di base per la richiesta dell'esenzione del ticket sanitario Sindaco è stato potenziato il servizio per la richiesta di esenzione di ticket un servizio importante richiesto da molti cittadini Sì, quest'anno la AS ringrazio il direttore generale il dottor Fagnano il responsabile del dottor Pinto del distretto sanitario di base di Roseto su richiesta del sindaco che ha fatto questa richiesta perché sollecitato da tanti cittadini della nostra città che per avere l'esenzione ticket per reddito si dovevano rivolgere agli uffici di Giulianova ha presentato una formale richiesta di riattivazione di questo servizio nel nostro distretto sanitario di base qui a Roseto e con grande soddisfazione oggi possiamo dire che i vertici della AS hanno accolto questa richiesta che il sindaco ha fatto a nome della città di Roseto degli Abruzzi ci saranno due sportelli aperti la mia soddisfazione è perché i nostri cittadini avranno meno disagi considerando che chi ha esenzione dal ticket sono persone appunto di età avanzata spesso persone anziane anche con disagi sociali ed economici quindi anche con difficoltà a spostarsi Questa è l'intervista di Elisa Leuzzo andiamo avanti il 2 aprile il cantatore abruzzese Andrea Per Mattei avrà un concerto di beneficenza i cui fondi saranno devoluti al canile comunale di Via Raiale si parla del canile comunale di Pescara di questo concerto per raccogliere fondi per il canile di Pescara un bel gesto anche per aiutare il mondo animale è sempre un piacere quando la cultura in qualche modo interviene interagisce con i problemi sociali importanti urgenti di questa città così diversi musicisti di Pescara in particolare Andrea Per Mattei che è conosciuta ha pubblicato diversi CD anche in tutta Italia ascoltati e ha deciso di tenere dei concerti insieme a altri amici musicisti e altre band per sensibilizzare per raccogliere fondi per fare un gesto diciamo anche utile pratico efficace per dare un po' di risorse al canile visto che tante persone lavorano in modo volontaristico per questo obiettivo tanti problemi al canile qui è giusto anche la cultura si mobiliti per sostenere questo problema io davvero ringrazio il nostro artista Pier Mattei che ha una sensibilità davvero spiccata perché lui davvero crede in questo aiuto nelle attività che svalgono le associazioni quindi questi suoi concerti spesso sono dedicati proprio a una raccolta fondi per loro quindi come assessore alla tutela del mondo animale lo posso soltanto ringraziare sperando che questa nostra anche vicinanza e collaborazione possa aiutare quindi l'associazione e quindi gli animali che ovviamente tutti i giorni nella nostra città devono essere supportati aiutati perché i cittadini a Pescara sono davvero molto sensibili e adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano iniziamo dal Pescara che domani scende in campo all'Adriatico contro il Fanalino di Coda Como Oddo senza Crescenzi Zampano e Mazzotta dunque senza la batteria di esterni sicuro l'impiego a destra in difesa di Vitturini Campagnaro centrale il dubbio del tecnico è legato all'utilizzo come esterno mancino basso di Rolando Mandragora con Fornasier che a quel punto farebbe coppia proprio con Campagnaro al centro della difesa ha convocato anche il giovane Ventola che andrà presumibilmente in panchina come Zuparic e Bruno davanti tutti a disposizione anche se il tecnico sceglierà domani chi mandare in tribuna ascoltiamolo Oddo ho tanta voglia di riscatto come ce l'hanno i ragazzi non vedo l'ora che arriva questa partita per per voler dimostrare che possiamo essere quelli che siamo stati fino a qualche partita fa abbiamo tutte le capacità di farlo ma io sono molto sereno sono molto sereno ma la mia serenità me la danno i ragazzi perché quando io vedo che in settimana si allenano bene e fanno e fanno tutto quello che gli chiedo e lo fanno bene con entusiasmo e con voglia e vedo la loro voglia negli occhi di rivincita io sono sereno non sarei sereno se vedessi altri problemi ma questi problemi non ci sono quindi si sono allenati molto bene sono concentrati hanno voglia di riscatto quindi io sono sereno fino alla fine dell'anno vi posso garantire che il pescato di tenni non lo vedrete più perché la nostra forza è sempre stata una e quello che abbiamo conquistato l'abbiamo conquistato con quella filosofia e quella deve essere al di là poi dei momenti di difficoltà ma in questo campionato solo tre o quattro volte non siamo andati a segno quindi questo è un dato importante questa è una squadra che fa gol è una squadra che crea crea tantissimo e non puoi privarti di quella che è la tua forza gli importati sarà ancora resti il Como sta bene è una squadra che sta bene fisicamente che sta che in salute gioca da quando ha cambiato ha fatto una vittoria fuori casa e un pareggio in casa contro comunque un avversario valido molto valido è una squadra che non va sottovalutata assolutamente se scendiamo in campo pensando che incontriamo il Como ultimi in classifica e vinciamo ci sbagliamo di grosso abbiamo tutti i mezzi e le qualità per poter vincere la partita perché noi ci possiamo nascondere dal fatto che è ovvio che dobbiamo vincere possiamo e dobbiamo vincere però senza sottovalutare l'avversario perché poi è una squadra che ovviamente ha bisogno di punti non credo che farà una partita all'attacco ovviamente sfrutterà le sue qualità le sue caratteristiche dovrebbe giocare a 5 come ha fatto da due partite a queste parti andiamo con l'aiuto della grafica a vedere il riepilogo della giornata di Serie B la 34esima si inizia oggi con l'anticipo tra Crotone e Virtus Lanciano alle 20.30 poi sabato Perugia Ascoli Cagliari Spezia Pescara Como Vicenza Livorno Trapani Brescia Provercelli Modena Latina Avellino Entella Ternana domenica invece alle 17.30 si giocheranno Vara Salernitana e lunedì alle 20.30 Bari Cesena Scendiamo in Lega Pro adesso domani per il Teramo sfida Albonolis contro i Rimini Biancorossi quasi certamente senza speranze Cenciarelli per il capitano ancora problemi all'adduttore della coscia destra mentre il mediano mercoledì in allenamento ha avuto nuove noie muscolari e Vivarini non lo rischierà per la gara contro i Romagnoli è tornato invece ad allenarsi Mirko Petrella ascoltiamo Vincenzo Vivarini Per me si gioca si gioca sicuro al 100% non ci sta manco un dubbio ho appena detto alla squadra quindi non abbiamo di questi problemi molto probabilmente scenderanno un 4-2-3-1 contro di noi quindi c'è da cercare di non farli giocare dobbiamo essere aggressivi nella fase non possesso dobbiamo curare soprattutto la loro fase di costruzione perché se riescono a servire i loro attaccanti che sono dei giocatori molto bravi come Di Molfetta Mancino e Polidori quindi dobbiamo tenere in grande considerazione il fatto di non far arrivare la palla a questi tre attaccanti Speranza penso che non difficile che ce la faccia perché ancora ha dei fastidi c'è un punto preciso che gli fa male quindi non penso che riuscirà a recuperare Cenciarelli ieri si è bloccato di nuovo bisogna valutare oggi come sta vedremo anche domani ma difficilmente sarà della partita anche lui adesso la cosa che chiedo è la salvezza nel più breve tempo possibile perché vogliamo chiudere diciamo questo grande traguardo e che dobbiamo diciamo almeno dobbiamo raggiungere questo obiettivo qua nel più breve tempo possibile perché secondo me è un qualcosa come ricevo prima molto molto importante e poi c'è da la società diciamo ha bisogno anche di avere delle valorizzazioni su qualche ragazzo quindi valuteremo anche questa situazione qui magari se ci sarà la possibilità di vedere all'opera qualche ragazzo del settore giovanile che stanno facendo benissimo però la cosa che più dobbiamo avere è sempre la qualità della squadra in campo cioè sempre organizzazione sempre attenzione squadra motivata sempre con la voglia di voler far bene restiamo sempre al calcio e scendiamo ancora di categoria per parlare del Giulianova che è alla ricerca del nuovo tecnico dopo l'esonero ieri per la coppia Gelsi-Pisano Francesco Giorgini ha detto no ad un ritorno sulla panchina giallorossa probabilmente ancora scottato dall'esonero di metà dicembre un tentativo è stato fatto ieri pomeriggio ma Giorgini ha declinato nelle ultime ore sempre più concreta la candidatura di Pasqualino Rossi allenatore originario proprio di Giulianova e con un passato nel settore giovanile giallorosso potrebbe essere lui a traghettare la squadra fino alla fine di questa stagione nel campionato di Serie D è tutto per quanto riguarda la prima edizione del TG6 vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23 grazie per essere stati con noi buona giornata grazie a tutti